Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale e all'appuntamento del mercoledì. Oggi cosa vi voglio far vedere, anzi cosa nello specifico andremo a trattare? Andremo a trattare l'argomento ShellyScript. È un argomento un po' tecnico, quindi avviso già tutti quelli che ci stanno guardando, in senso che vi farò vedere come è possibile andare a utilizzare gli script all'interno della serie ShellyPlus per recepire molte più informazioni di quelle di default, ad esempio da Home Assistant o in generale pubblica in MQTT Home Assistant e anche a fare qualche piccola cosa molto interessante. Quindi vediamo tutto questo dopo la sigla. Bene ragazzi, eccoci giunti sul nostro desktop. Come potete vedere la prima cosa che ho fatto è andare a cercare uno Shelly1 della serie Plus, collegarmi tramite interfaccia web. E oggi andremo poi a concentrarci sulla parte di script, come vi ho anticipato appunto nella presentazione di questo video. Quindi vi invito anche a collegare il relativo Shelly che state utilizzando alla parte MQTT, perché potrà essere un po' più comodo poi per sfruttarne alcune opzioni. Quindi vi faccio un breve ricapitolo come si configura l'MQTT. Basterà andare nella sezione Network, andare in MQTT e andare a configurare tutte le user, nome del broker, admin, se è lo user, la password e ovviamente il topic che desiderate pubblicare poi di fatto sul nostro MQTT. Abilitare in generale, vi consiglio di abilitare queste due, che così vi dà status più aggiornati. Fare apply, riavviare lo Shelly a questo punto è collegato in MQTT. Bene, quindi tornando un attimo invece alla nostra parte di script, una volta qua io ho già uno script in esecuzione, però noi ne creeremo uno nuovo per farvi vedere tutto il processo. Quindi con gli script cosa possiamo fare? Di fatto possiamo fare quasi tutto, in senso che possiamo recuperare tutti gli status dello Shelly attuale, quindi qualsiasi tipo di informazione che metto a disposizione. Vi invito ad andarvi a vedere la documentazione a livello di API sulla Shelly, però oggi vi ne farò vedere un bel po' di cose. E come soprattutto, anche senza andare a leggere troppa documentazione, andare a recuperare informazioni e vedere quelle disponibili, senza conoscere poi puntualmente quali sono. Allora, per prima cosa andiamo ad aggiungere un nuovo script, gli diamo un nome, che in questo caso chiameremo test, e a questo punto ci darà ovviamente la riga di comando, perché ricordiamoci ragazzi che stiamo utilizzando un linguaggio di programmazione di fatto, quindi dovremo scrivere del codice. Io ho già preparato del codice per non scriverlo da zero, che adesso copierò e incollerò, e poi vi spiegherò in tutte le sue parti cosa fa. Perché prima di tutto dobbiamo utilizzare la parte di script? Vi faccio un esempio. Sulla Shelly Plus, se integrate, diciamo appunto, questi Shelly in MQTT tramite Home Assistant, o meglio, tramite MQTT in Home Assistant, c'è un problemino, in senso che nella serie precedente, tramite l'esecuzione di un annunce, quindi di una chiamata ai vari Shelly, nel momento in cui veniva riavviato Home Assistant, veniva fatta come prima chiamata questa, tutti gli Shelly, appunto questa annunce, e gli Shelly si presentavano. E a quel punto tutti gli stati, delle tue varie luci, prese, eccetera, eccetera, i Home Assistant erano aggiornati. Con la serie Plus invece hanno tolto questa cosa, e diventa un po' più complicato, se non con delle cose veramente arzigogolate. Perché cosa succede? Nel momento in cui riavviate il vostro Home Assistant, o in generale fate un rebuild solo della parte MQTT di Home Assistant, tutti gli stati attuali della serie Shelly Plus si perdono, fin tanto che a meno non ci sia un'attivazione fisica di un pulsante che riporti lo stato aggiornato, o comunque che non ci sia qualche altra condizione che faccia aggiornare il topic presente nell'MQTT. Quindi questo disturba, perché se tu stai facendo, non so, stai aggiungendo dei sensori, fai un rebuild della parte MQTT, tutti i tuoi Shelly Plus diventano indisponibili, stato non individuato comunque, quindi non li potete controllare, fin quando non si, a meno, non si verifica appunto le condizioni che vi dicevo prima. Per ovviare a ciò, vi basta fare ad esempio un semplice script che ogni tot secondi lui pubblica sul broker, quindi lo Shelly in questione, il suo status. In questo modo voi siete sicuri che anche se riavviate Home Assistant avrete sempre, al massimo con un ritardo di 10 secondi, gli stati di tutti i vostri Shelly aggiornati, a meno per quanto riguarda la Shelly Plus. E serve anche per dire se è disponibile o non disponibile, perché poi potreste fare anche volendo delle automazioni che vi permettono di dire se all'interno del broker viene pubblicato un determinato topic, poi magari vi farò vedere con Node-RED come si fa, se siete interessati ditemelo, intanto vi invito a andarvi a vedere prima di tutti i corsi base di Node-RED, che comunque vi lascio il link sopra, in alto a destra. Se siete appunto, fate questa automazione e a questo punto, nel momento in cui non riceve aggiornamenti un determinato topic da più di 20 secondi, si può decidere di consolidare tramite l'avable topic presente in Home Assistant e si può decidere di considerare quella luce non disponibile, perché è di fatto non collegata alla rete, perché se il nostro script non ha più pubblicato in MQTT, cioè lo script che faremo adesso, un determinato topic, vuol dire che non ce l'ha fatta, quindi in qualche modo è scollegato. Quindi questo per esempio è un caso di utilizzo, quindi per avere sempre la vostra situazione aggiornata, piuttosto che andare a pescare una serie di altre informazioni presenti nel linguaggio di programmazione tramite scripting e andarla a pubblicare sull'MQTT e una volta che sono pubblicate sull'MQTT, come sapete, possiamo integrarle nelle nostre varie entità sensori presenti in Home Assistant. Quindi adesso chiudo un attimo il discorso della parte teorica. Ah, un'altra cosa, vi ricordo che soprattutto quando state facendo i test è di abilitare la console. Per abilitare la console, la mia la vedete già abilitata, nel vostro caso vi uscirà abilitate debug nelle opzioni, quindi basta che andrete nelle opzioni, abilitate il debug, fate un riavvio e qua vi ritroverete la parte console funzionante. Ok, allora adesso vi faccio vedere come poter fare quella cosa che ci dicevamo, cioè evitare che gli stati diventano indisponibili per un riavvio di Home Assistant. La strada più veloce, appunto, adesso vi incollo il codice, così lo commentiamo. La strada più veloce è questa. O lasciate perdere i vari commenti che sono delle prove che ho fatto che volendo per fare altro, diciamo, quindi vediamo la parte non commentata. Allora, prima di tutto i commenti si fanno come potete vedere o con la doppia barretta o con barretta e asterisco nel momento in cui dovete commentare un blocco. Ok? Perfetto. Allora, cosa dice di fatto questa istruzione qua? Vi invito eventualmente a copiarla e incollarla così com'è. Poi se ne avete bisogno ve la metto anche nei commenti. Comunque, dichiara un nuovo timer dove gli dice che dovrà ciclare questo timer ogni 10 secondi, questo è in millisecondi. Il timer ovviamente è di tipo attivo, quindi true. E qua, io dichiaro, si può fare anche in un altro modo, qua lo faccio velocemente, dichiaro direttamente dopo la virgola la funzione che dovrà eseguire ogni 10 secondi. Quindi la funzione che dovrà eseguire al suo interno ha tutta una serie di altre istruzioni ovviamente. Quindi cosa faccio qua? Qua vado a dirgli di pubblicarmi su MQTT e prima di tutto mi direte ma come fai a recuperare il prefisso di MQTT senza cablarlo dentro? Perché se no in teoria dovrei andare a cablare dentro il prefisso sulla base di quello che abbiamo settato prima che vi ho fatto vedere qua quando abbiamo configurato il nostro MQTT. Niente vado banalmente a usare questo comando del framework Shelly che mi restituisce tutte le informazioni del protocollo MQTT a livello di configurazione come potete vedere ma nello specifico gli dico dammi solo il topic prefix perché il resto non mi interessa poi vi farò vedere cosa contiene anche tutto questo. Quindi lo dichiaro in una variabile quindi let la dichiarazione della variabile e la chiamo MQTT prefix così io poi quando andrò a pubblicare tramite questo metodo che fornisce appunto il framework quindi MQTT publish andrò a dirgli metto il prefisso che io posso non sapere qual è quindi qua mi basterà questo script qua io lo posso riutilizzare in mille altri Shelly senza bisogno di personalizzare per singolo Shelly io faccio copia e incolla copia e incolla copia e incolla e li configuro tutti e se anche un giorno cambierò il prefisso dell'MQTT lo script già ragionerà di base sua quindi non ci sarà bisogno di mettere mani allo script tutto funzionerà e questa è una cosa che vi consiglio ovviamente di fare invece di scrivere dentro però il prefisso così cablato sulle virgolette anche questa parte qua volendo si può configurare a piacimento però cosa succede quando voi andate a configurare il vostro Shelly su Home Assistant è chiaro che avrete dei indirizzi ben definiti sul topic che di solito sono questi nome più questa parte qua quello che interessa è questo queste sono aggiunte che ho fatto io non sono strettamente necessarie ma vi faccio vedere quante informazioni in più si possono ricavare così quindi banalmente voi potreste solo mettere questa prima riga più questa per fare quello che vi ho detto ok dove banalmente in questa parte qua vado a dire pubblica in questo prefisso che è lo stesso dove lo Shelly di fatto lui pubblica quando avviene qualche cambiamento a mano tipo dal tasto no il valore dello switch quindi lo status del component switch 0 in questo caso sono switch 1 se no ci saranno più switch ovviamente uso poi questa questa funzione per la parte json per in modo tale che poi la diciamo la parte di publish non abbia problemi a pubblicare tutto questo quindi vi consiglio di metterla così come l'ho scritta e vabbè poi ci sono i retain comunque vi invito proprio a mettere esattamente quello che c'è scritto qua intanto funziona benissimo e a questo punto lui ogni 10 secondi pubblicherà l'aggiornamento dello status e cos'è che si riflette in questo adesso vi apro mqtt explorer per farvi vedere cosa intendo quindi questo qua io qua ovviamente ho tantissimi scelli e altre cose me le sono diciamo cercate io questo dovrebbe essere la luce giardino se non mi ricordo male eccolo qua e come vedete questa è l'informazione che ogni 10 secondi mi si aggiorna vedete qua che è appena cambiato 17 29 56 e quindi mi ha dato un aggiornamento mi dà l'aggiornamento ovviamente di tutto anche banalmente della temperatura e dello stato 17 30 vedete che è cambiato ancora ecco questa cosa non avverrebbe se non ci fosse lo script che ho messo io non avverrebbe perché di default questa aggiornamento anche per non sovraticare il broker ovviamente ma questo aggiornamento viene mandato solo se ci sono delle modifiche o da applicazione o da tastino però come vi ho detto prima se voi riavviate home assistant o in qualsiasi caso c'è un aperto di connessione eccetera eccetera in realtà non siete al 100% sicuri che lo status sia aggiornato oppure addirittura l'entità su home assistant risulterà non disponibile quindi per questo che vi invito assolutamente a mettere questa cosa magari invece 10 secondi potete fare 30 secondi insomma vedete voi sulla base delle prestazioni dei vostri server comunque qua dentro vediamo che le informazioni sono n quindi c'è la temperatura espressa in file nate in gradi piuttosto che l'output e il source cioè chi ha mandato questo status di aggiornamento l'ha mandato mqtt perché sono stato io tramite script per farla breve in più come potete vedere io ho anche pubblicato qua che vedete wifi perché qua ho messo anche lo status del wifi perché voglio avere anche tutti quello che contiene questo component per quello che vi dicevo non è necessario sapere a priori cosa c'è dentro voi lo mettete così get component senza mettere un punto come qua vedi qua invece vado a richiedere una specifica cosa senza mettere un punto quindi voglio restituirmi tutto l'oggetto lo faccio scrivere e io vedo quello che contiene quindi vedo che contiene la potenza del segnale cosa molto interessante il si da cui è collegato lo status e sta ip è l'ip address altra cosa fondamentale che vi consiglio di tenere da qualche parte io addirittura mi sono fatto un topic personalizzato che mi dà per tutti gli scelli con il relativo topic tutti gli indirizzi IP quindi io vado all'imqtd explorer oppure mi creo delle entità e posso sapere a colpo d'occhio tutti i miei scelli quali P hanno senza bisogna andare sul router fare casino fare scansioni della rete eccetera eccetera sono loro che mi dicono anche quando viene cambiato perché anche se fossi in DHCP qua mi dice quando ho cambiato ovvio se è statico dovrebbe rimanere quello quindi sulla base anche di questi orari come vi dicevo prima posso capire se il mio scelli è collegato perché se c'è un ritardo di aggiornamento per più metti di un minuto considerando che lo faccio girare ogni 10 secondi c'è qualche problema di disponibilità dello scelli ok quindi questa ad esempio è una prima informazione un'altra informazione che mi sono fatto stampare è la parte di mct di configurazione perché? perché mi serviva a recuperare poi di fatto anche il topic prefix però mi sono fatto stampare anche l'oggetto ma queste sono prove poi voi fateli stampare quello che vi serve infatti anche qua vedete che io addirittura mi da tutto mi da tutte le mie tutto quello che è stato configurato lato scelli me lo riporta qua io ho tutti questi bellissimi diciamo tag possono essere tramutati in entità e gestiti tramite un app system per qualsiasi scopo ci sono tante di queste informazioni io adesso ve ne sto facendo vedere alcune ovvio che se volete sapere altro nello specifico lasciatemelo nei commenti adesso vi sto facendo capire le potenzialità poi nei commenti voi potete scrivermi eventuali richieste ok quindi abbiamo visto di fatto come tramite gli script andare a pubblicare ogni 10 secondi una serie di informazioni che poi possono essere prese dal mio broker e messe in home assistant sotto forma di entità e gestite in tutte le nostre automazioni come vogliamo oltre al fatto che sarà sempre aggiornato il nostro status ora esistono anche altri tipi di di opzioni con la parte di scripting che magari vi farò in una lezione 2 e se siete interessati mettetemi tanti like così capisco che è un argomento che fa presa e quindi tratterò anche il successivo capitolo il successivo capitolo stiamo parlando di eventi quindi andare a digitare e a legare degli eventi che quando succede un qualcosa sullo shell in questione già direttamente la parte di scripting può chiamare altri shell e farli accendere spegnere alzare la tapparella abbassare controllare le percentuali delle tapparelle tutto senza bisogno di un broker quindi fare delle automazioni tutto con gli shell senza avere per forza home assistant a basso livello quindi non utilizzando la classica funzioncina dell'app degli shell a basso livello quindi vuol dire molta più sicurezza e robustezza ovviamente e stabilità oltre al fatto che tramite scripting è possibile anche chiamare API di terze parti quindi vi faccio l'esempio io se ho una nuki qua dentro posso chiamare la mia app nuki passando user e password dicendo apriti porta chiudi di porta quindi non necessariamente agire su solo l'ecosistema shell ma posso agire su anche altri ecosistemi se mettono a disposizione l'API chiamandole direttamente da qua quindi anche questo senza bisogno di un hub con un minimo di smanettamenti ovviamente è un po' tecnica la cosa però vi assicuro che è una cosa molto molto interessante quindi lo andremo a vedere vi ricordo che poi c'è comunque una sorta di documentazione consultabile qua e una serie di snippet che ti danno un'idea di quello che è possibile fare ma è molto più potente diciamo pensare un po' fuori da questi snippet fuori dagli schemi perché questi vi danno solo dei piccoli esempi quindi quando si accende o meno un diciamo un pulsante questo è il codice quindi famo quello che vi dicevo prima aggiungere un handler che in ascolto però da qui poi quello che si può fare qua lui fa un print ma stampa semplicemente nella console a fine di debugga che è una cosa che non vi ho detto se volete debuggare in quella console che vedete sotto usate questa sintassi qua quindi la potete inserire e vi cercherò un po' di aprire la mente insomma con proprio degli esempi un po' più pratici al di là di questi snippet adesso volevo solo prima di tutto capire se è un argomento che può interessare secondariamente risolvere un problema che ha la serie plus cioè gli aggiornamenti nel momento in cui viene riavviato ma assistant o configurati altre periferiche MQTT che necessitano del riavvio quindi in questo modo risolvete tutti i problemi e in più un altro problema è recuperare tutti i dati cioè potete recuperare qualsiasi dato e trasformarlo in entità come vi ho fatto vedere banalmente sfruttando la parte di switch wifi e MQTT già recuperate un bel po' di dati in realtà ce ne sono anche altri per recuperare altri dati che se volete successivamente andremo ad approfondire poi vi ricordo anche che se non volete che vi restituisca come abbiamo visto prima tutto il json che vedete qua della parte MQTT potete andare a dirgli a me mi interessa solo il topic prefix per esempio molto bene allora qua metterò MQTT punto topic prefix o qualsiasi altra cosa voglio diciamo farmi tornare solo una piccola parte bene una volta completato questo basterà fare save and run e lo Shelly inizierà a farlo girare ogni 10 secondi adesso io non lo faccio perché in realtà ce n'ho già uno ce n'ho già uno che vi faccio vedere velocemente cosa fa e non fa altro che andare a pubblicare tutto quello che avete visto e in più mi pubblica anche nella lista dei miei IP address l'IP address vedi sta IP direttamente di questo componente perché voglio questo Shelly voglio tenerlo monitorato ma in realtà questo comando qua c'è su tutti i miei Shelly perché ho la lista completa di tutti i miei Shelly con gli indirizzi IP cosa molto interessante qua vedete potete stopparlo perché questo è in esecuzione bene ragazzi con questo ho concluso spero di avervi fatto capire quanto è potente questa cosa qua al di là poi dei webbook che magari affronteremo che anche quello sulla base delle azioni vai a chiamare delle API di terze parti o anche direttamente interne di Shelly secondo me è molto più potente lo script è ovvio servono anche delle conoscenze tecniche un po' più approfondite ma questo penso che non vi spaventi studiare un attimo quindi seguete i miei corsi che sicuramente avrete una buona infarinatura iniziale e poi magari andrò anche a scendere un po' più in dettaglio quindi io vi ringrazio per avermi seguito vi invito ad iscrivermi per farvi crescere il canale a supportarci se potete supportarci tramite il link Paypal e vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ciao ragazzi grazie grazie grazie